Volevo condividere con voi una veloce riflessione che è nata dalla lettura di Filosofia del Gaming di Tommaso Ariemma, che è questo libro molto piccolo, agile, pubblicato da Thlon, che va, come suggerisce il titolo, a fare un ponte tra il mondo della filosofia e quello dei videogiochi, in modo interessante, curioso, per chi volesse appunto un primo approccio in quest'ottica, che gli faccia capire come tutto questo sia bidirezionale, e quindi che possiamo partire da quelli che sono i videogiochi per andare a ricollegarci a quello che è la filosofia, a quelli che sono grandi nomi di pensatori del passato, ma anche il contrario, quindi iniziare a vedere quelle posizioni che hanno espresso i loro ragionamenti, la loro visione del mondo, la loro filosofia, e andare quindi a utilizzarla per dire qualcosa di più sul medium videoludico. E su questo ci sono quindi vari capitoli, molto piccoli, diretti, veloci, ce n'è per esempio uno su Dark Souls e Aristotele, lo cito giusto perché se mi seguite sapete che Dark Souls mi è particolarmente caro anche per i vari libri che ho scritto io stesso, se invece non mi conosceste io sono Francesco Toniolo, sono un professore universitario, mi occupo di videogiochi. Comunque, quindi, questo libro è un testo appunto di pop filosofia, ed è su questo il punto che ho trovato interessante per fare una riflessione, per cui il libro in generale è curioso, vi consiglio di leggerlo se cercate appunto qualcosa che non sia specialistico, che vada a darvi uno sguardo, qualche guizzo di curiosità, che poi sta a voi magari andare a portare eventualmente avanti, a portare una serie di sviluppi successivi, di riflessioni. E questo si lega al punto. Allora, vado a leggervi proprio un pezzetto, che viene dalla parte finale del libro, dove in realtà ci sono i riferimenti bibliografici, quindi quella parte che di solito molte persone non vanno neanche a leggere, cioè lo fanno chi deve, non lo so, scrivere una tesi, allora inizia a leggersi dei libri, e poi dopo va a vedere in fondo se ci sono dei riferimenti bibliografici interessanti, a loro volta ad andare ad approfondire. Se no, di solito ci si ferma prima, non è proprio una lettura entusiasmante per molte persone. Io a volte mi diverto anche a spulciare le bibliografie, però io sono un po' particolare, cioè questo mi veniva da farlo anche prima che iniziassi il mio percorso di insegnamento, per cui era proprio una cosa forse innata. Ovunque, leggo un pezzetto, quindi prima di presentare le effettive fonti viene fatto un po' questo discorso qui, quindi aperte le virgolette, sono opere, quelle di pop filosofia, che irritano in qualche modo l'accademismo più ingessato, ma anche chi si aspetta solo una banalizzazione del discorso filosofico. In questo caso un testo come Filosofia del gaming potrebbe irritare non poco i puristi della relativamente recente disciplina dei game studies. Il limite della quasi totalità delle ricerche dei game studies è di essere estremamente circoscritte, nonostante l'approccio interdisciplinare. Il che, se per certi versi è un bene, soprattutto in termini di analisi e approfondimento, si rivela anche un male, perché alimenta la frammentarietà dei game studies, nonché dibattiti su questioni non così essenziali. Chiuse le virgolette, poi aggiungo anche comunque che dopo segnala che comunque questo testo deve molto ai game studies e cita in particolare, che è sempre bene ricordarlo, il nome di Matteo Bittanti, che è stata sostanzialmente la persona che in Italia ha dato avvio ai game studies con tutta una serie di sue pubblicazioni e con quella che è stata la storica collana ludologica per Edizioni Unicopli. che è stata la prima collana che si è messa qui da noi in Italia in modo continuativo, sequenziale, a pubblicare testi che andassero in quella direzione. Quindi, appunto, non è un attacco ai game studies, chiaramente, però ci porta a riflettere in questo senso, quindi ci aiuta anche a spiegare, a capire l'idea, l'intento, alla base di questo libro. Ma, come detto, mi piaceva riprendere, sottolineare questo concetto, perché effettivamente non è così facile trovare questo equilibrio che viene proposto. Perché se da un lato abbiamo quello che è un accademismo che a volte rischia effettivamente di essere chiuso, sterile, si usa la solita immagine della Torre d'Avorio, ma a parte quello siamo davanti a qualcosa, come detto, di fin troppo specialistico, che può essere inteso in vari modi, perché se da un lato è chiaro che qualcuno debba anche portare avanti delle ricerche in un ambito di specializzazione, anche molto profonda, anche molto dettagliata, perché se no non c'è mai un proseguimento della conoscenza. Questo in alcune discipline è anche molto più facile da capire rispetto ad altre. Però, dall'altro lato, se c'è solo questo, si rischia di rimanere, appunto, troppo segmentati in tutta una serie di isolotti che volano, che viaggiano separati in un grande mare e non vanno mai ad avere un punto di contatto, ma soprattutto quello che è il problema è che a volte c'è effettivamente un eccesso inutile di, chiamiamolo accademichese, quindi una ipercomplicazione del discorso che arriva oltre un certo punto. E che qui, dopo, molte persone tendono a ragionare, appunto, per opposti, quindi o c'è una cosa o c'è il suo opposto. Mentre, invece, è una scala di grigi, per cui io sono anche d'accordo con le persone che in vario modo dicono che è anche utile innalzare un po' il livello del discorso, cioè arrivando dall'altro lato non è neanche corretto che si vada solo su l'appiattimento totale e anche linguistico, perché dopo diventa anche sempre più verso il basso, è una gara al ribasso, quindi continuo a scendere sempre di più perché metto uno standard poi dicono abbassiamolo quindi diventa un nuovo standard lo abbassiamo ancora quindi sono assolutamente d'accordo in questo modo ma deve essere fatto con uno scopo innanzitutto e deve essere fatto con la capacità per cui abbiamo davanti dei testi che sono effettivamente molto complessi da leggere e questo in tutte le discipline in tutti gli ambiti ma che sanno premiare la persona che si mette lì con una certa calma vi faccio anche un esempio concreto quando mi sono trovato all'università a studiare dei testi di Gianfranco Contini non sono delle letture proprio così da passeggiata che uno è lì con la birretta lo sprizza e tanto sfoglia questi testi hanno una complessità notevole perché davvero in pochissime pagine a volte Contini sa condensare condensare quello che è un mondo intero di concetti di un grande esperto che è andato progressivamente a condensare il tutto per cui ogni cosa parlante anche i silenzi anche le esclusioni che vengonovate dicono tantissimo in realtà sulla sua visione il suo approccio su quello che lui va a considerare meritevole e poi ogni frase appunto va meditata va anche gustata per certi aspetti poi cosa succede che ci sono testi che sono assolutamente cialtroneschi tra l'altro anche io vi dicevo prima che mi piace spaziare tra varie letture e approcci mi capita anche a volte quando scopro per esempio che ci sono delle persone accusate di plagio io vado a recuperare i loro libri e poi me li leggo tutti e si vede lì in molti casi in questo caso non sto a fare nomi ma un approccio totalmente cialtronesco in questo senso cioè che si vede proprio che sono delle grandi costruzioni con grandi concetti parole desuete che però sono fumo degli occhi perché per quanto uno vada a mettersi rimettersi rimettersi alla fine dice questa frase potrei benissimo prenderla e applicarla a un altro autore un altro videogioco un altro film a seconda del caso ripeto sono un po' volutamente vago ma ci sono esempi in vari ambiti in quest'ottica e sarebbe la stessa cosa cioè sarebbe lo stesso brodo in forme incomprensibile dove uno butta l'occhio scorge come appunto in una sorta immaginatelo di grande pentolone ogni tanto vede qualcosa che ribolle in superficie che dice ok questo ho intuito che c'è dietro un senso ma in realtà non c'è infatti poi salta fuori che sono tutte frasi riciclate rimescolate diventano queste sorte di mostri di frankenstein saggistici e quindi abbiamo anche questo effettivo problema quindi ora questo è un po' proprio il caso limite il caso estremo che sicuramente però c'è ogni tanto salta fuori anche quando non siamo davanti al plagio c'è comunque casi in cui si va a a confondere le acque a fare una cortina di fumo perché tutto sommato è facile cioè l'idea che scrivere in modo difficile sia facile può sembrare strana ma entro certi limiti lo è cioè è difficile far scusate adesso gioco un po' di parole anch'io è complesso è difficile scrivere in questo modo nell'ottica che dicevamo alla continui per dire per cui che io sto parlando comunque a delle persone da cui mi aspetto una certa attenzione perlomeno ho una grande esperienza e quindi vado a distillare vado a condensare questi concetti ma posso farlo tranquillamente in un modo appunto che vada semplicemente a confonderle acqua non farmi capire per cui è difficile come dicevo scrivere in modo difficile ok adesso dirò come detto diventa un po' un gioco di parole ma è molto più complesso trovare un equilibrio perché allora cosa succede che nel momento in cui io vado a dire ok abbassiamo un po' questa elevatezza perché se no parliamo solo a pochi addetti ai lavori solo specialisti quindi apriamoci ecco che arriva all'altro problema al versante opposto cioè il fatto che la divulgazione finisca spesso per abbinarsi alla banalizzazione quindi per rendere più semplice più accessibile un concetto finisco alla fine per svilirlo per banalizzarlo riuscire a raccontare in un modo semplice ampio adatto a tante persone qualcosa che mantenga una sua complessità di fondo questa è maestria questa è maestria e non tante persone sanno farlo sono anche persone tra l'altro almeno negli ambiti di mio interesse che generalmente stimo molto che leggo molto volentieri non è l'unica strada possibile comunque come detto ci sono modi di andare a operare anche verso gli altri poli quindi da un lato è chiaro che la ricerca accademica lo studio scientifico richieda un determinato approccio richiede un determinato lessico non sarà necessariamente per tutti anche se comunque anche lì ci sono modi di non appesantire di non caricare più del dovuto però è chiaro che parliamo comunque di un qualcosa che è pensato prignoriamente per degli addetti ai lavori o anche poi persone esterne che però abbiano quel minimo livello o la minima voglia di dire mi metto lì un attimo con calma leggo qualcosa che non è appunto la lettura rilassante della sera necessariamente e dall'altro lato c'è anche modo di raccontare certo in modo divulgativo semplice immediato anche dei concetti magari che non sono poi di grande complessità perché a volte si vive anche di quello soprattutto quando iniziamo a incuriosirci verso un certo mondo si parte un po' dalle curiosità le pillole non è necessariamente un male di per sé il problema è quando non c'è mai un qualcosa in più cioè quando si rimane solo alla pillola al video di 20 secondi alla curiosità di passaggio allora si diventa a mio giudizio poco interessante poco stimolante perché si rimane sempre fermo invece dovrebbe essere un qualcosa quando c'è una passione un interesse una curiosità un percorso graduale quindi dove vado a fare dei passaggi e a volte ecco è in questa fase intermedia dove mancano un po' proprio i gradini mancano gli scalini da andare a percorrere perché parto appunto dal adesso faccio anche qui per stereotipi dal video di tiktok con tre curiosità in 30 secondi su dark souls e poi improvvisamente mi trovo catapultato a leggere articoli accademici molto molto complessi e non ho qualcosa nel mezzo per cui c'è tutta questa questa dimensione che è molto sfidante da percorrere ogni tanto c'è chi ci riesce in un modo continuativo e quindi ha un'effettiva maestria c'è chi invece è più ondivago in questo senso c'è chi persegue anche comprensibilmente obiettivi diversi però trovo che sia un bel un bel modo verso cui tendere è un po' come quelle metafore sapete dei buoni arcieri che più si avvicina al bersaglio sarà il più bravo e quindi anche qui prendiamolo come ideale obiettivo in molti casi non per pochi tutti ma sicuramente lo vedo come un qualcosa di preferibile a quello che appunto da un lato l'appiattimento totale che non vuol dire parlare in modo semplice ogni tanto ci vuole anche parlare come dicono pane il pane e vino al vino ci sta assolutamente ma se all'inizio soprattutto di un processo poi da questo cercare di alzare verso qualcosa di più e anche in quel caso comunque la semplicità non è la banalizzazione sono due cose diverse perché con uno sforzo in più si riesce anche a spiegare qualcosa di complesso in modo semplice ma come detto non è facile perché quella complessità la devo padroneggiare a fondo questo se no non sarò in grado questo è un vantaggio tra l'altro che ho avuto sempre in passato è stato che già al liceo io facevo delle sorti di lezioni per molti miei compagni di classe in molte occasioni soprattutto con non so filosofia storia queste materie qui e quindi era un modo per dire a me stesso devi sapere molto bene queste cose perché devi spiegarle e devi spiegarle magari in un modo che sia anche almeno all'inizio un attimo più semplice perché così lo fai passare in questo modo e poi dopo si riusciva così a capire magari il concetto detto dal dal professore scritto nel libro e quindi c'era questo passaggio che mi richiedeva questo sforzo cosa che poi forse ho perso anche un pochino con gli anni poi del dottorato perché dopo entri nel mondo universitario lì è tutto strutturato in un altro modo però insomma avendo un'esperienza di insegnamento costante quello che è un mio obiettivo è sempre sempre questo di cercare di capire al fondo quelli che sono determinati concetti quella che è la complessità di un argomento andando poi a riproporla in un modo che non sia comunque da da divulgazione neanche totale perché non è questa è anche una cosa di gradimento personale come dicevo cioè a me interessa comunque trattare gli argomenti in un certo modo e poi questo diventerebbe un altro video però c'è questo elemento ecco c'è questo bilanciamento ideale che vale la pena inseguire e quindi lo do anche a me stesso come obiettivo assolutamente perché in tanti casi capita anche poi di deviare fuori dal percorso sicuramente ogni tanto succede perché non non si è sempre al mille per cento delle proprie capacità della propria forma espressiva a volte ci sono eventi contingenti che ci portano magari a tendere un po' più da una parte o dall'altra però sicuramente questa è una lezione che ho che mi ha aiutato a ricordare appunto filosofia del gaming che come detto ne ho parlato anche poco in realtà sono soffermato su questa parte finale ma anche per questo lo trovo interessante cioè andare a fare tutto un discorso partendo da una parte del libro che probabilmente almeno per esperienza personale molte persone non hanno letto cioè si arriva in fondo e dice ok capitolo arriviamo a riferimenti bibliografici ok bene fine del libro comunque dateci un occhio filosofia del gaming data lete alla playstation di Tommaso Ariemma è comunque una lettura come vi dicevo interessante curiosa se volete un po' questo approccio iniziale al discorso che possa darvi un po' di stimoli un po' di elementi inaspettati su cui andare a fare qualche prima riflessione a fare